E salve a tutti amici, Cooper e niente, siamo nello speciale 100 iscritte! E niente, ho deciso di farvi vedere la mia postazione anche se è una cosa banalissima E siamo davanti alla mia porta, la mia bellissima porta simpatica marroncina Direi di entrare, che non si vede nulla, si vede un po' la mano e voilà Tutto aperto, tutto aperto, si entra subito, si vede il letto, il letto molto scozzese Con due cuscini molto uovo, quanto è il mio letto, è bellissimo, è comodo Poi c'è il mio armadio, il mio mega armadio, lo sentite? Lo sentite? You can feel the armadio? E poi arriviamo qua dove ci sono le cose da svapatore, le cose qui accanto, tutte cose dei calcini La sigaretta, guanti, chitarre, acque, ecco qua, questa è la mia postazione, vedete? Vedete? Questa è bellissima, è la mia postazione, quindi credo il video sia finito, quindi perfetto E niente, qui c'è un casco, che ci fa un casco qua? Bello il casco, sempre la chitarra, bello Tutte cose a caso, e lui, lui, oh sì, lui è il perfetto perché è fresco e là c'è il computer che non dovevate vedere No, 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 dopo, 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 eccola Passiamo a lei, che è la mitica H-Racing verde, è bellissima, verde, nera, tutto, tutto Razer Sì, anche la segna perché, insomma, il colore è quello, quindi, però passiamo subito le cose, spostiamola, ma non va È un vaffanculo, segna di merda, fotti Ok, quindi, arriviamo sotto Lui è il panchettino, quello che, insomma, mi salva la vita mentre gioco e faccio le mie cose E lui è il computer, insomma, che si apre a sportellino Comunque, intanto, vi lascio tutte le spec sotto nel video del computer, vi lascio tutti i link, eccetera Niente, questa è la mitica scheda video Poi passiamo al dissipatore, che dissipa il mitico processore Accendiamo la luce, che è meglio Lì accanto possiamo vedere due banchi da 8GB ciascuno delle DigiSkill E niente, tutto molto bello Ventoli, tutto perfetto, è bellissimo, è mega spazioso ed è perfetto E dietro c'è lo stesso spazio, eh, dietro per i cavi Uguale, tipo, sì, 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 lo stesso spazio che c'è lì Ora qui si chiude meglio Va bene così E quindi sì, lui è il computer perfetto Ora ci alziamo Ci giriamo Qua ci tocchiamo un po' la sedia Ci sediamo, perché siamo vecchi E qui c'è la mia scrivania, la mia bellissima scrivania Con questi Cosa sono questi? Oh, cazzo, ma questi sono dei toscanelli Dei sigaretti toscanelli belli Lì c'è il mio bellissimo joystick La play, con le cuffie E il tappetino La, 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 non è una scheda video questa Ma una, una, una chitarra Quella è una chitarra Sì, una chitarra con le lucine E poi si passa questo Che è il mio bellissimo Non mi viene in mente Poi si passa il microfono Oh mio Dio, quanto è bello però È bellissimo E poi passiamo Qui che tipo C'è tutte cose che non c'entrano in cazzo Tra di loro Tutter Jake Padrino La, 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 la Tutto molto bello E nulla Ed ecco qua Questa è la posazione Voilà Voilà È tutto bellissimo Ehm, niente Poi dietro ci sono i pannelli Fonoassorbenti Non perché volevo fare il figo Eee Nulla Dietro c'è un Un cable management Che fa vomitare Ma non ho niente Devo trovare un pochettino di tempo Per Per farlo E ora niente Ci risediamo Qua si sposta il microfono Lo spostiamo lì E praticamente così È come Vedere Vedete quando Insomma Quando registro È tutto così Molto bello Molto grosso Eccetera Eccetera Ora qua Credo che Non so che cosa stavo facendo Però ho preferito non tagliare niente Perché è un video corto E nulla Ora praticamente vi faccio vedere Qualche clipettina Eee Nulla Quindi Intanto vi voglio ringraziare Per Eee Ora credo siamo a 115 Non ricordo bene Insomma A 115 iscritti E praticamente Dalla settimana che sono partito Abbiamo fatto Circa 30 iscritti In una settimana Ed è qualcosa di Boh Meraviglioso Fantastico Non saprei Perché Cazzo 30 iscritti È In una settimana Per me è tanto Comunque È veramente tanto Quindi grazie Tanto E niente Qua vi sto facendo vedere Un po' di cose Eee Così le rivedete Un po' più lentamente Qua faccio Tutta la panoramica Del braccio Con il Meg Che è un Numer 800 Eee C'ha questo Pop Insomma Questa spugna Che è perfetta E tipo L'ho presa a caso Non ci stava in quello vecchio Per questo è perfetta E poi Passiamo a lui Lui è il coso È L'alimentatore Il piccolo alimentatore Per il microfono Anche lui è del Newer Numer 100 Ed è quello che mi permette Di avere una qualità migliore E praticamente ho speso 40 euro In totale Per entrambi E poi qui c'è una cosa Molto sfocata Di tutto quanto E quindi Nulla Che dirvi Io ragazzi Vi ringrazio Veramente tanto Per Per i 100 iscritti Epa Per i 115 iscritti Avanti ho ancora Molto Molto da farvi vedere Ho tanti video Fino a che Non mi annoierò E potrebbe succedere Che un giorno Insomma Arrivi Abbastanza in alto Però Io Sono qui Cioè ora Lo faccio per passione Anche perché Comunque Lavoro E Quindi Quindi Lo faccio molto Per passione Perché comunque Non guadagno niente Proprio niente Cioè Un canale di 115 iscritti Non può guadagnare nulla Anche se avesse la partnership Ma io non ho nemmeno quella Perché dovrei arrivare a 10.000 visualizzazioni E credo siamo a 5.000 In totale Eccetera Però Devo dire che Credo siano 3 mesi Sono No Sì No Sono credo 4 mesi Che Ho aperto il canale Ed è stato tutto Molto bello Cioè è molto bello Ancora Perché Sono pieno di soddisfazioni Perché Comunque Un canale Così piccolo Con così tanti Tanti visualizzazioni Rispetto agli iscritti Che Secondo me Cioè È piuttosto raro Trovare un canale Che abbia più visualizzazioni Di iscritti Perché di solito È al contrario Magari Magari C'è qualcuno Che ha trovato Questo canale Che era già iscritto A quello vecchio Ma Io non l'ho spammato Quindi l'ha trovato Da solo E quindi Sa che avevo Un altro canale Che era Ma si chiamava Proprio GP Lì avevo 170 iscritti Ma tipo 20-30 visualizzazioni Insomma Ormai era morto Come canale Non sapevo più Che cosa fare E quindi Ho deciso di aprire Questo Concentrato Su Escape from Tarkov Perché nessuno Lo portava E meritava Da portare Adesso insomma Ha i suoi problemi Le sue cose Però Cioè Come tutti i giochi Avranno una fine E una bella finale Comunque E quindi niente Non so di quanto Mi sono dilungato Perché qua mi si è stoppato Il tempo Del video Quindi Insomma Non so quanto sono E nulla Io vi ringrazio Di nuovo Veramente tanto Spero che questo video Vi sia piaciuto Vi ricordo che Vi lascio in descrizione Se me lo ricordo Più che altro Se li trovo Tutti i componenti E quindi Lascerò 350.000 Link Non vi ho parlato Delle cose Perché alla fine Volevo fare Un video Piuttosto Stupido Non Che faccio questo Si chiama Cosa Eccetera Vi lascio tutto In descrizione E E bom E nulla Quindi Io vi ringrazio Di nuovo Spero che vi sia piaciuto Come speciale 100 iscritti E niente Adesso Credo che Il nostro Traguardo Quello con gli zeri E con l'uno Sarà un Mille Sempre se ci arriveremo Però Con calma Fate con calma E quindi Nulla Io vi ringrazio Perché comunque Siete sempre In tanti Sotto i commenti Lasciate sempre In tanti Mi piace Quindi Perfetto Quindi nulla Io per la ventesima volta Vi ringrazio E ci rivediamo Al prossimo video Ciao Ciao ragazzi Ciao